Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, oggi è sabato, solitamente non siete abituati a vedere un video del genere sul canale però mi sento di dovervi portare questo contenuto una nuova minaccia raga, legge su di noi, una nuova minaccia si è abbattuta sulla community di fifa e in particolare sulla mia persona in primis settimana scorsa diciamo che questa cosa ho ragionato tanto sul farla o non farla vedere in un video o farla o non farla vedere in live diciamo che credo, credo che la maniera nella quale andrò a trattare sia la maniera più giusta ossia farvi vedere insomma di che cosa sto parlando e soprattutto di darvi gli strumenti per poter difendere questa situazione perché di che cosa andiamo a parlare in questo video? Di un benedettissimo kickoff glitch che è possibile fare su fifa 21 che è praticamente unstoppable, ok? Quindi se fatto bene vi mette in serissima difficoltà anche se ci provate a difenderlo io credo di aver elaborato due metodi abbastanza interessanti per poter dar fastidio su questo kickoff tuttavia è veramente una piaga per cui questo è semplicemente un video informazione non vi dirò minimamente come si va a fare, ok? innanzitutto perché non me ne frega niente perché non mi sono neanche documentato anche se ho un'idea di quali tasti bisogna effettivamente schiacciare ma non vi spiegherò che come si fa perché un conto è fare un tutorial su un modulo un tutorial su una skill, un tutorial su una roba del genere un conto è fare un tutorial su una roba indifendibile che rompe il gioco quindi da me riceverete semplicemente un video che sarà il più possibile di informazione ma non saprete come si va a fare quindi senza perdere ulteriormente tempo passiamo sulla schermata dove vediamo una clip registrata in quella che è stata la weekend league di settimana scorso ok? perché contestualizziamo ero lì a farmi i fatti miei era Pasqua tra l'altro era appena risorto il signore e io stavo finendo la mia weekend league se non erro era anche la penultima partita se non l'ultima perché insomma volevo fermarmi a fuori classe per andare a pranzare e me si è abbattuta sta disgrazia raga infatti adesso vi faccio vedere quello di cui sto parlando ma vado a staccare la webcam ok? l'impresa diretta per farvi vedere quella che è stata la mia reazione perché secondo me merita ok? quindi un piccolo colpo di spugna appare il Riberoski del passato sentite ancora la mia voce succede esattamente questo ok? 1 a 0 vedete il parziale 46esimo mi prego di soffermarvi sulla mia faccia una faccia raga di totale sgomento però 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 voi dite ok sarà stato un caso l'azione prosegue vado batto io faccio un'azione guardate qui bella pulitina 2 a 1 dico dentro me stesso ok daje daje cambecchiamo sta partita vi prego guardate continuate a guardare la mia faccia in quel momento raga io vi giuro non sapevo se ridere piangere perché effettivamente non stavo capendo quello che mi stava succedendo ok? era un qualcosa che non ho mai visto in vita mia cioè quest'anno in realtà perché una roba del genere si portava anche su FIFA 18 comunque andiamo a rivedere bene che cosa succede ok? analizziamo come vedete calcio ad inizio c'è questa rete di passaggi quindi palla su Aland che dà l'1-2 sulla punta Aland parte palla sul giocatore dietro poi subito verso verso il terzino che è Vendel guardate Varane che è in marcatura non riesce a saltare ok? avete visto come ha fintato l'intervento nonostante fosse in anticipo su Aland ok? cosa succede nel secondo caso? esattamente la stessa cosa diciamo che qua avevo intecchiato la situazione quindi se vedete dalla minimappa guardate vedete che io ho selezionato preventivamente Varane guardate quanto ho trascinato Varane davanti Aland ok? infatti boh penso di avere due metri di vantaggio Varane fa tipo la foca invece di prendere il pallone lo liscia completamente rifiutandosi di andare a saltare quindi ho praticamente ho preso due gol fotocopia ok? su una situazione che mi risultava indifendibile però ovviamente l'ingegno umano cerca di trovare delle contromisure quali sono queste contromisure le andiamo a vedere immediatamente rapido cambio di selezione video ok? come potete vedere adesso il parziale è di 3 a 2 quindi avevo accorciato nuovamente le distanze lui lo rifà lui lo rifà e qui ho provato la prima cosa vedete che è andato a vuoto l'ha presa però non ha segnato perché che cosa succede? che col portiere fuori dai pali il colpo di testa è molto più difficile da indirizzare perché gli parte totalmente manuale quindi vedete che lui come l'ha cannato rispetto a prima e la zola era uguale e l'ha cannato però questo ovviamente non è la difesa che vi consiglio perché vedete come il portiere che io ho fatto uscire manuale trascinandolo con l'R3 era molto passivo guardate 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 qui la palla avrebbe dovuto prenderla invece io non essendo stato precisissimo lui non la riesce a prendere ok? però qualora voi siate più precisi con l'analogico questo può essere un modo per andare a evitare questo kickoff molto più efficace invece per andare a evitare questo kickoff è il metodo seguente che andremo a vedere adesso eccoci qua qua gli vado a segnare un'altra volta me l'ho fogato kickoff stavolta lo sapevo me l'ho preparato psicologicamente lui fa il suo solito schemino guardate qua il portiere dove già l'ho fatto uscire regà stavolta l'ho fatto uscire lì già con triangolo ok? quindi in maniera tale che schiacciando e non schiacciando il pulsante mi vado a regolare io la posizione in uscita del portiere quindi arrivato più o meno su quella zolla guardate inizio a giochicchiare col portiere e vedete come il cross si è venuto impreciso perché il cross ha agganciato la zolla dove il portiere era infatti guardate come prende comodamente il pallone nonostante lui ha fatto tutto bene come aveva fatto anche in precedenza un'altra tecnica che potrebbe essere utilizzata per andare a braccare questo tipo di kickoff qui potrebbe essere la trappola del fuorigioco però la trappola del fuorigioco potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perché qualora voi andate a fare a parte che io in questo caso l'avevo fatta ok? la trappola del fuorigioco qualora voi andate a fare la trappola del fuorigioco non col giusto tempismo potete fare due cose prima ecco qua alzare troppo la linea e quindi favorire un corridoio per l'attaccante che arriva seconda cosa cannare totalmente il fuorigioco e lui poi la palla potrebbe anche mettere a terra e calciare invece di fare questa roba col colpo di testa quindi la trappola del fuorigioco io ci andrei un attimino cauto sull'andare a utilizzarla un'altra opportunità che come potete vedere se non erro in questo frangente qua nel video precedente sulla seconda volta che mi ha fatto il kickoff io ho tentato guardate esattamente qua io avevo capito ovviamente che lui voleva rifare la stessa cosa guardate come prendo immediatamente Ronaldo perché volevo andare a falciare Bendel ok prima che facesse il cross questa è una roba pure che può funzionare però un pochino rischiosa perché se poi il cross vi parte e voi non avete preso delle giuste contromisure rischiate che ve lo fa e vi riesce ad andare comunque a buon fine quindi in soldoni il metodo migliore per poter andare a difendere questo kickoff si compone di tre step appena batte il kickoff trappola del fuorigioco così come si fa sempre sul kickoff per stringere la squadra seconda cosa selezionare in maniera rapidissima il giocatore più vicino al suo terzino in maniera tale da andargielo a chiudere ok per cercare anche con una scivolata regà un fallo sti cavoli si deve cercare di evitare che la palla vada a spiovere nella vostra area di rigore per evitare guai peggiori terzo elemento fare uscire il portiere con triangolo perché se fate uscire il portiere con triangolo vi garantite a la possibilità che vada a fare un intervento con i pugni b la possibilità che il suo cross non vada ad agganciare il giocatore che arriva ma va a agganciare il portiere che è uscito dai pali e di conseguenza potete cercare di appunto sventare questa minaccia questa minaccia aerea ok quindi raga fondamentalmente ripeto per questo video di informazione sottolineo informazione e tutto quindi ci tenevo a farvi vedere la minaccia però facendovi vedere la minaccia ci tengo a darvi il vaccino contestualizzando non vi spiego come si fa perché è un morbo che io non voglio minimamente diffondere questo ma proprio minimamente cioè una roba che deve sparire al più presto mi auguro che venga nerfata pacciata qualcosa non lo so mettono un qualcosa che trattiene l'attaccante non parte in profondità quindi mi raccomando cercate di mettere insieme questi tre elementi quando vedete che si sta buildando questo tipo di azione perché magari non conoscendola potreste rimanere sorpresi mi raccomando non cercate di replicarla perché vi ripeto da me non saprete come si fa non andate a chiedere in giro perché c'è gente che l'ha fatto quindi per cortesia community videisti pro eccetera aiutiamoci ok non lo diffondiamo cerchiamo di dare le contromisure quindi raga fondamentalmente per questo video è tutto fatemi sapere che ne pensate sta tragedia perché è una tragedia raga sono gli incubi di fifa 18 ve lo giuro sto kick off con un bel commento vi ricordo un like insomma fatemi sapere se già vera capitato e nulla un salutone al vostro riberoski raga in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma un salutone peace